Vuoi che mi stacco dal party se non dirò un bicoglione oppure... Oppure no? Passaci tu, io devo avere l'anticopyright attivo, poi arrivo pure Vabbè, io l'avevo detto, poi... Oh ma guarda chi c'è, Clarissa c'è Adesso lo capisci chi c'è Friday Night Funky tra le altre cose Eh no aspetta può darmi copyright però, mannaggia a lui Allora che cosa metto, ok forse questo Si ma gente che parla un po' di più Tipo? Mannaggia Gente che ha più di A Cooking Come è cooking Ciotto Allora Ehhhhhh... Ehhhhhh... Ehhhhhhhhhh... Ehhhhhh... Daili Power Number 3 Cross... E percare il fuga Oh, posso fare stacking di tre cose, nice Arigatole 5 notifiche? Beh, c'è stata un sacco di attività Star Platinum Buono Devo ricordarmi di Immagino che non abbia specificato mai Il gender Ah, è un lui, ok Non l'avevo capito Vabbè, è un lui simpatico a sto punto Una volta tanto, sai Sì, è un lui simpatico a sto punto Non mi dì che è già finito Sto coso Ah no, che hanno i film Sì, è un lui simpatico a sto punto Sì, è un lui simpatico a sto punto è morto è morto tutto ah live stream offline gli è crashato il mao è morto è morto ok bello cosa è carina è morto ombra ok 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 pianta di crashare io boia che aperto è cool super effetto la chiamavano super effetto semene che è un tempismo che risponde ai topic del video dopo una settimana ma ha pianti di farmi respawnare cosa il disegno che ha postato a me lì nel giorno 6 e lui ha risposto appena oggi lol ok 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 l'importante è che abbiamo un'utenza vera a differenza di qualcun'altro che è arrivato e parla perché te lo già conosceva rose e cacciotta era un'amica in comune e quindi lei pure interesse rc e io e te allora invita la invitata e vabbè me avevo messo dei placeholder per non far aprire dei buchi buchi che sono apparsi comunque perché dio stronzo oh c'è un evento rallycross da completare mi sa che farò un chase sei ma 6 6 6 4 4.000 oh si sta spopolando sto video nuovo non mi aspettavo così tanto però la cosa mia nuova si mille views solo stamattina vabbè buono così non vuoi spaventarti chi non è convinto da quella roba proprio non sa quello che vuole quello è il discorso che è successo guarda mo dio madonna la morte ma vai in monaco il traffico di me dice che se mettono le doppie library world te lo fai un farmino o non te frega io me lo farò qualcosa ma no l'hanno distrutto darò non si fa un colore di due al senso rosso e muro twitch ora twitch ok twitch non mi sento moltissimo fare bel in una anche la l'altra cazzo è una scola la Ah, è per caffè. Molto fame. Eh. Hai spinto, che bello, questo cuore, ragazzi. That one. Cosa, pensa che sia una merda, eh? Penso che sia fatto male. Ma non è un modo ottimista. Non è un modo ottimista. E poi ci sa già come è un modo. Niente non ti può vedere del tuo, mi sembra già da scoprire. Sì, quando è già il discorso della rovina. Però sti, 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 sti. Ma, 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 ma. Guarda, io temo che verrà chiuso a breve dopo l'uscita della Legendary. Temo. Beh, è anche vero che i server su PS3 non possono andare per sempre, quindi... È inevitabile, diciamo, eh. Se non oggi... Cioè, se non ne stanno... Eh, su PS3, sì. Intendo quello di PS3. Sì. Sai, spero solo che non facciano i bastardi e non tolgano le... Le release vecchie per mettere la Legendary, perché... Se lo fanno, quello è un segnale che lo chiudono anche su PC. Perché, ti dico una cosa che ho letto ieri. Quando... Quando hanno... Quando hanno messo la remaster di Burnout, la versione vecchia non riusciva più a contattare i server di EA. Ok? Quindi... Praticamente... Sei... Sei inculato se hai la versione vecchia dei... 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 Su... Su Steam, questo. Io spero vivamente che non faccia una staboiata, perché sennò... Sennò è un crimine... Sennò intendo... Sei scissuto, ci sono感吉 Peninsula! Ah, importanti... Oli, ohli, 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 ohli! Non viUC Aspowe! Sono del fatto! Sennò... Io le... Cycolare, però te lolehre! Non vuole morire! Non vuole mortal. Ma non vuole morire... Playstationreating aereotinamico futuro radioso, che eccesso! ma che cazzo è oggi? madonna allora vincemento stanto molto grosso eccolo qua stanto molto grosso oddio non mi ricordo porca dico la troia non mi ricordo dove c'ho il set la non c'è niente eh? l'ho tolto? what the fuck? ma perché? aspetta oh è pieno sulla KTM K non mi ricordavo oh Bop bop si è venuto, chi è venuto? si è venuto? si è venuto un campion? si è venuto? si è venuto? senti solo? si è venuto? oh my god, è anche Naomi qui sono io! Come? boh ai lati? se sei di sera si nota un casino mi è capito pochissime volte di farla di sera ma effettivamente si vede e questo perchè la sera in sto gioco è fatta da pagliacci per studenti guarda sai cosa vaffanculo mi ritorgo adesso sti eventi così dopo provo a fare o raiden se non sono morto però non vuoi quel gioco si sente che manca perchè? perchè? perchè mi chiedi? perchè la digital costa quattrocento perchè la digital costa quattrocento almeno secondo i miei commenti che ho visto ma secondo te io perchè mi sono messo il cuore in pace? cioè è proprio per quello per evitare di fare le minchiate e favorire gente che di soldi ne ha fin troppi perchè alla fine tutto sto... sto trenino qua come hai detto te favorisce gente che è già di soldi ne ha un casino metti che da qualcuno che ne so che ha bisogno di questi soldi ma non è così perchè se hai bisogno di soldi ovviamente non ne hai e quindi... cioè... ma a prescindere da questo se il prezzo di mercato è quello perchè andare al soprapprezzo? cazzo di senso A per vedere da imbecilli 7 su 25 dai 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 che ce la faccio quindi stasera possiamo evitare di vedere lo stream del luna, no? secondo me hanno confermato tra virgolette che i drop sono solamente 4 e non 5 scusa quanto costano di quei display nel gioco? oh no io sono... 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 ci sarà un motivo per cui ho 4 e non 5 però forse perchè è una leggerazione tra quelle più importanti e voglio evitare di svalutarla un casino l'importante è anche non nemmeno alcune volte che le regalano ci sono cose di importanza semplicemente quella è un tipo e poi ci sono altre che non si sa andiamo a cuore e forse pensi che la prima volta è un po' no boh non è un po' 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 Grazie a tutti! I don't let's kill! Madonna mia! Una massacrata malissima Bene gol Ehi! 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 Che poi sono degli imbecilli Cioè se è uno show televisivo chiamateli episodi non round che senso ha chiamarli round? Ehi! 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 Questo qua De... Questo qua De... De... De game No? Sì! Dipendono come strutturare le... 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 Ehi! Le... Ehi! Ch Scarfort. Se Hugh 너무... Yeah! È غ unusuante... ... I want to uh... I want to have a talk with you guys Actually let me know that there's not a... I'm not mad at you guys, I'm mad at someone else I'm mad Like I mean... Bum 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 Or even because I'm not supposed to be in the end of it I always... I always watch this thing Especially when you're in the end of it Because I study a lot Because he's in the same way Good! And then sometimes I hear him Saying my name But sometimes you're not a friend But you're not a friend But you're not a friend But you're not a friend Why? You're not a friend Every time you find a friend You suddenly talk about me Why is that I wonder? I'd like to know actually Tell me why See I've got to get to look at one Every time you find one You'd be like Oh it is a god Wait what? Why? Why does a friend like Remind me of... Remind you of me? Huh? I'd like to talk I'm kinda mad La madonna poverina del dio Quasi erano gli... Error... Oh my god There's a camera Don't wanna close my eyes Oh my god Oh my god Oh my god I don't wanna gof I don't wanna gof I don't wanna gof I don't wanna gof Oh my god I don't wanna gof To make me talk with the Spirit Oh my god Do you wanna gof To make me talk with the Spirit I don't wanna gof I don't wanna gof If you I Christopher 안�ols no no easy strong weapon ma fia da io mi chiamato 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 ma che il chiamato uff does that mean i'm easy are you telling me an easy girl is that it is that it oh he's a dog no Maio, oi, corruzano maio! Corruzano maio! O, e tu cosa da mamma mia? Iwi! A tu mia fai tu! O, stromani, a io pregio, e poi tu si vieni ma! Ha? Iwi se! A tu mia fai tu! Ma, ma, ma! Ma, 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 ma! Ma, 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 ma! Ma, ma, ma! Iwi! Poi! 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 Dio buono! De Dio! Eh, cazzo! O, riva musikati! O, so, vente! O, chi, su... O, chi, suya! mi piace se ci avvicini di casa sai, domanda se ci avvicini di casa e se gli rompe le palle altrettanto po' con sti suoni così mi suonano suave piedi mao sas voglio vedere sto percorso oh c'è un loop qui so due loop però conviene sempre meno ah boh io devo pensare che i loop sono concepiti col punteggio basso perchè se tu vai a boostare costantemente all'interno di essi ti becchi comunque mille punti è l'unica teoria che avrebbe senso subiamo ma non lo so sia cos'è? non ricorda ne che è bohnyard c'è il cimitero dell'aereo che in generale c'è stato molto grosso di sante c'è il cimitero 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 Madonna, è certo che è il dolore fisico senza il set che ti fa fare le rotazioni rapida. Ah, motocross, sembra. Vediamo che quella scoppa. Bello col rombo da Mitsubishi, le mani. Dio bastardo. Voi vieni adora da chi fa parte? Cosa vuoi in realtà? Oltre farai che aprezzà... Ogni aspetti. Ma potta farlo. Ma potuta fare il teore? E' andare da? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Oltre il teore? Voglio riparare fortissimo nella vita. La sess. Sì, te l'ho detto, il summit non è nemmeno necessario essere in lui, quindi puoi fartelo letteralmente quando ti pare. Non mi vedi tu. E allora non fare niente di niente. Le ma. Te butti e te deprimi. Te butti sul letto e non fai un gazz. Le ma. Le ho il dialetto. Gce? K. Vai. Vai morir. Sì 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 C'è un po' che c'è? Quattro e Chimane Cosa? Cosa? Cosa. Cosa a un'altra cosa che qui si è arrivata. Cosa? Cosa? Cosa che si fai? Cosa che si fai un'altro. Ahah! Cosa che si fai? Alla prossima! A presto, a presto, a presto, a presto. e una cosa che c'è il fatto? è quello che c'è del... il gabbai barchandone c'è il gabbai barchandone tutti i giusti sono divane qui c'è il creno di fa e qui è l' confiano e qui c'è l'h nenhuma è l'hacanta? non è il momento però si c'è l'hacqua? Sì! e e e e e e e e e Sì, è vero che non è vero. La nostra ricerca, la nostra ricerca è iniziata Ilrzyma di quello di ultimi ricerca La nostra ricerca è iniziata Non è anche semplice Non è più semplice La ricerca è iniziata Perciò che si posso farmi da sicurezza La ricerca è iniziata Si non è poco buono Sì Sì, è un po' di più fico, ma non è un po' di più fico. ma non c'è nulla ma non è il caso perché io ero il fatto che non è tutto perché ma non è tutto il fatto che perché non è tutto perché ma non è tutto, ma non è tutto ma non è tutto è stato in front mijn ponte che si è lo stesso Ancora Grazie a tutti. 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 quindi abbiamo fatto molta bridgebox in japonese e inglesi in anglo stiamo parlando sta molto bene, anche un po' molto grafico ci sono tutti stupi che sono arrivati ? si finiscono? no non c'è afferminare ? oh sì 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 segue l'hoidito noti è fantastico è no 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 no! no no no! no 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 e allora! ci sono i altri personaggi! per una cosa ne puoi? c'è un progetto! c'è un progetto! no e vuoi prima police! non sei se... ma non mi è così! certo! Sì, non è vero, non è vero. Sì, 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 sì. no oh ah 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 Ah, non c'è qui bene! Ah, non c'è qui! Oh, no c'è qui? Oh, c'è qui qui? Qu'è qui c'è qui? C'è qui c'è qui? Il c'è qui c'è qui c'è la famiglia! C'è qui c'è qui c'è la fame! Oggi se qualche preda da me. Anche le cose 10 anni di più. Cosa di lena? Cosa di sua! Cosa di un uomo! Cosa di un uomo! Cosa! E' facile da fare. Cosa di un uomo! Sì, 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 Sì ok 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 Start국 як fordare! Gli ok Bueno No! Gli ok C tu la.. dunque stai Sì anche non èako che che i ricevuti Dio avanti no lasi che magari è stata Calmente la differenza delе a dit Bullett' sarà meno facile rusi avanti al di 3 stars non Sì, sì, sì. C'è questo? Pagano. Tutto. Eppor, Pagano. I give this five star, I have to go to the same game. Thank you. Wow. C'est il cheque, oh no. Maybe we should try it, come by. Pagano. Pagano. Ah, no no no. Cheque? Buon appetito! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 . Sì. 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 Sì.